Ciao a tutti, video di aggiornamento su quello che sta accadendo nel criptomondo. Allora, Bitcoin Gold dopo diversi problemini è finalmente partito. Come potete vedere su BTGExp escono i blocchi più o meno con continuità, quindi significa che la rete adesso funziona. Tuttavia non è ancora possibile fare le transazioni con Coinomi perché se controllate il blocco che viene visualizzato su Coinomi, sul wallet, non è quello degli ultimi blocchi a disposizione. Quindi quando il nodo di Coinomi si allenerà alla blockchain di Bitcoin Gold sarà possibile vedere il proprio bilancio e fare transazioni in Bitcoin Gold. Se non l'avete ancora fatto, su Bitcoin Gold hanno aggiunto questa possibilità, voi inserite il vostro indirizzo Bitcoin o i vostri indirizzi e potete controllare se effettivamente ci sono dei Bitcoin Gold all'interno. Ovviamente dovevate avere Bitcoin prima di questo blocco. Quindi se voi avete fatto transazioni sulla rete Bitcoin dopo questo blocco, vi sono rimasti i Bitcoin Gold. e attraverso il video che avevo già fatto per Bitcoin Cash potete richiedere i Bitcoin Gold. Quindi ve lo lascio in descrizione e anche a fine video. La procedura sarà la stessa, dovete solo controllare che effettivamente Coinomi sia sincronizzato all'ultimo blocco che appunto è questo qui che trovate nel Block Explorer. Per quanto riguarda invece il Bitcoin classico, le cose non stanno andando troppo bene, perché come si può vedere da diversi grafici, questo grafico mostra la potenza della rete Bitcoin. C'è stato un crollo e questo crollo praticamente è dovuto al fatto che i miner hanno trovato molto più remunerativo andare a minare Bitcoin Cash. E poi appunto c'è stata la speculazione su Bitcoin Cash che appunto secondo me è un segnale di quanto effettivamente le persone vogliono un Bitcoin che si possa utilizzare come moneta, però è un'opinione personale. E anche in questo grafico qui vediamo appunto il costo delle transazioni. fare una transazione sulla rete Bitcoin attualmente ha raggiunto un costo di transazione veramente esagerato proprio perché appunto il grosso della potenza di calcolo della rete Bitcoin si è spostato su Bitcoin Cash e quindi chi è che vuole fare transazioni sulla rete Bitcoin normale si trova appunto svantaggiato. Questa situazione dovrebbe comunque risolversi a breve nel senso che la difficoltà di Bitcoin diminuisce e quindi i miner che sono interessati ad avere diciamo un guadagno nel più breve tempo possibile si sposteranno di nuovo sulla rete Bitcoin. Per quanto invece riguarda sempre le transazioni questo qui praticamente è il grafico di quanto valore viene spostato effettivamente su una rete e qui appunto c'è Bitcoin, Ethereum e Litecoin e Bitcoin Cash. Come vedete qualche tempo fa la gran parte del valore era quasi sempre spostato sulla rete Bitcoin adesso in realtà quello che sta succedendo Ethereum viene sempre utilizzato ma per transazioni diciamo di un importo abbastanza piccolo invece per quanto riguarda le transazioni più grosse come valore appunto abbiamo avuto un picco di Bitcoin e adesso un picco di Bitcoin Cash questo per dire che non sono transazioni finte effettivamente c'è del valore che si sta spostando sulla rete vedremo se questo trend continuerà o meno. Per quanto riguarda appunto invece il panorama globale delle criptovalute c'è stata una lieve flessione però in realtà questa flessione di Bitcoin non è andata verso le valute fiat classiche euro e dollaro o perlomeno è andata in una piccola percentuale il grosso del valore è rimasto all'interno della cripto economia quindi se guardiamo il grafico dell'ultima settimana possiamo vedere come si Bitcoin ha perso qualcosa che adesso ha anche un pochino recuperato però il valore è sempre rimasto all'interno della cripto economia perlomeno all'interno delle criptovalute che effettivamente possono avere qualcosa di interessante quindi Bitcoin Cash ha fatto l'86% negli ultimi sette giorni Litecoin ha guadagnato qualcosina Dash ha guadagnato il 64% Monero quasi il 50% Yota l'81% e quindi come dire non c'è stata comunque la fuoriuscita di questo valore e quindi è una cosa secondo me positiva per appunto questa cripto economia che per alcuni è ancora tutto fumoso sicuramente si tratta di un mondo dove c'è tanta speculazione però il fatto che quando Bitcoin crolli le persone non tornino alle valute fiat questo è anche un altro segnale che comunque questo mondo sta maturando e quindi sarà sempre più interessante da vedere in futuro per adesso è tutto ditemi cosa ne pensate di che cosa accadrà nel mondo del Bitcoin se Bitcoin Cash secondo voi potrà prendere il posto di Bitcoin o meno e quindi vi saluto e ci vediamo in un altro video ciao